Errare è umano ma perseverare è diabolico. Questo aforisma, ripreso anche da Sant'Agostino, calza pennello per un nigeriano spacciatore incallito di 32 anni, da 4 anni sul suolo italiano, arrestato dagli agenti della questura di Pesaro venerdì della scorsa settimana. Il nigeriano ha sulla testa un curriculum da spacciatore di tutto rispetto, che è saltato fuori dalla banca dati digitale della polizia, già arrestato per ben 4 volte, sempre per reati simili, oltre ad essere stato indagato in stato di libertà una quinta. Scaltro e sempre con le antenne dritte aveva scelto l'ormai arcinoto Parco Miralfiore, dove era praticamente attivo nello spaccio di eroina ai tossicodipendenti, luogo che gli permetteva diverse vie di fuga e nascondigli in mezzo alla boscaglia, al minimo sentore di forze di polizia nel raggio di 100 metri, sfuggendo così varie volte ai blitz delle forze dell'ordine in questa area. Ma come le cronache ci insegnano e gli stessi agenti sanno, è solo questione di tempo, ormai era entrato nel mirino delle forze di polizia. Agli inquirenti era noto che il nigeriano era solito arrivare a Pesaro dal riminese in treno e così venerdì mattina lo hanno aspettato alla stazione prima che si infilasse nel parco. Ma di lui nessuna traccia? Qualche domanda però ben fatta ai suoi connazionali scesi dal treno è bastata per capire che il 32enne era sul treno, ma che forse, per una sorta di sesto senso, aveva forse deciso di scendere a Fano. Ed in effetti così è stato. Gli agenti lo hanno beccato nel sottopasso della stazione di Fano mentre tentava di nascondere un involucro nella ringhiera delle scale che portano al quarto binario, contenente già quattro dosi di eroina pronta per lo spaccio e pertanto è stato arrestato e subito portato in carcere. Lunedì il nigeriano è stato accompagnato in tribunale a Pesaro dove il giudice ha convalidato l'arresto ma lo ha rimesso in libertà sottoponendolo alla misura cautelare del divieto di Nimora nella provincia di Pesaro e di Rimini. Nonostante già indagato in ben cinque circostanze e patteggiando in due procedimenti la pena di sette mesi nel primo e un anno e quattro mesi nel secondo, l'articolo della legge sulla droga che gli è stato applicato non ha consentito al giudice, con tutte le perplessità del caso si legge nel comunicato della Questura di applicare la misura della custodia in carcere dell'uomo.